La squadra mobile della polizia in pochi giorni ha risolto il caso della cassaforte rubata a Pasqua dagli uffici della sede della provincia al Tecnoparco. Due uomini, uno di origine marocchina, residente a Omenia, classe 1965, e un italiano di grave nonatoce, classe 1964, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a piede libero. Ritrovata, grazie alle perquisizioni domiciliari messe in atto dai poliziotti, parte della refurtiva che si aggirava sui 2.000 euro e anche la cassaforte che i due, dopo il colpo, hanno abbandonato in una scarpata a Granerolo, frazione di grave nonatoce. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperarla. I ladri erano riusciti a evitare i sistemi di sicurezza del Tecnoparco. Giunti nell'ufficio dell'economato, avevano trascinato fuori la cassaforte. All'interno c'erano contanti, assegni, carte di credito, titoli e importanti documenti di rilevanza economica e amministrativa. Non solo, dagli uffici hanno portato via anche dispositivi elettronici e altri 200 euro in contanti. Preziose le informazioni fornite agli uomini del commissario capo Ugo Armano dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.